Ah ah ah! E poi abbiamo Giaviela Carò, in Gotti, in Blinkz! Banditina Palazza, Mary Jane Watson, in Optimate, in Spider-Man! Abbiamo Paola Giornetti, con Lucia, non paghiavra, in E-Cruz! Iolanda Granato, in Animani, in Mutante! Dove? In Mutante! Che si! Ah, questa la conosco è! Doventino Madi, ovvero Sia, eia Iolanda, evo che non tre punti a sé! Abbiamo Paola Giornetti, in Mega Rambo, in Digital Fusion Pertons! Crowd dancing, in Sia, Rapper, in Cash Canyon! E infine, ed in Sashimoni, a carne sulle mani, in Psyche, in Psyche, in Psyche! Io ho aperto con questo frane! Lasciamo bene, lasciamo stare, non è il momento! Anche a voi, in Giavolo, nello stesso colore! Chris e Peter! A dentro, ma un fondo, anche! Direttore della Comforte, che è quello! Allora, la strada, 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 strada! Che te l'abbiamo due, un video! No, no! Allora! Ma quello è semplu, eh? Ok! Grazie! E poi la foto me l'ha fatta lei, non ricercito tutto il foglio! Allora! Cacchio! Stavaggio! No! 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 Psyche! E poi il profilo, eh! Ah si! E' proprio lui! Psyche Yellow! E cui abbiamo Fish and Ships, direttrice per il direttore! Ah! Ah, questa è la distanza che è l'oltre, il pinguine di Madame Pascale, di Natale di Natale Pascale, no? Poi abbiamo, scusate che io faccio qualche flatulenza a volte, eh? A fare un po', il mio papà è finito un po' magro, sì, no, no, dove sei? Allora, andiamo a Psempro Pass, direttrice, direttore, 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 un favore di Zona Zotta, eh? Questa serie la conosco molto parla, la conosco molto parla, come si trattura già questa cosa? Ah, Luigi, no, Racket Rabbit, direttore Luigi Rosa, oh, 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 On the way down there is, oh, Christian Simpson, per la mia città! Lui si è rotto il braccio destro e ancora non ha capito perché la polizia sta indagando sul sinistro. Comunque, voi dovete ancora rimanere qui perché non è finito il vostro compito.